Un saluto a tutti voi telespettatori di CatalanTV, una notizia positiva sulla sanità in apertura del nostro telegiornale, perché a partire da domani ripartono tutte le visite specialistiche ambulatoriali e libero professionali in regime di intramenia erogate dall'azienda socio-sanitaria locale di Sassari con la relativa programmazione. Sentiamo i dettagli nel servizio. La riapertura sarà effettuata nel rigoroso rispetto dei nuovi percorsi logistici indicati dai servizi di prevenzione e protezione, al fine di evitare assembramenti e le visite specialistiche dovranno essere prenotate attraverso il CUP e gli appuntamenti saranno programmati con orari opportunamente distanziati. Inoltre sarà a cura del CUP o dei singoli ambulatori richiamare i pazienti ancora in attesa di visita, le cui prenotazioni sono state sospese con l'interruzione delle attività non urgenti per l'emergenza sanitaria pandemica da Covid-19. Due giorni prima della prestazione gli utenti saranno contattati telefonicamente per compilare una scheda di pre-triage. Il giorno della visita nelle aree di accoglienza sarà poi effettuata un'ulteriore verifica per escludere con certezza la presenza di febbre o di sintomi riconducibili al coronavirus. Dal momento dell'ingresso nelle strutture sarà poi obbligatorio l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza di sicurezza salvo diverse indicazioni dell'operatore sanitario. Una notizia positiva dunque per la sanità del territorio le prese con una serie di problematiche denunciate da cittadini e anche da esponenti politici di opposizione. Ma nei giorni scorsi era stato lo stesso presidente del Consiglio regionale Michele Paes a chiedere con forza la ripresa delle visite ambulatoriali. Una situazione inammissibile a cui si è messo rimedio per tante persone che attendevano visite mediche fondamentali, penso a cardiopatici, neuropatici, malati oncologici, così come le visite di screening ha dichiarato. In settimane inoltre sono stati ultimati i lavori per l'accesso diretto al pronto soccorso del civile. In attesa del nuovo ospedale è necessario intervenire con importanti lavori di sistemazione di tutti i reparti e dell'area di accoglienza e primo ingresso da programmare entro l'anno. Inoltre è fondamentale potenziare la dotazione tecnologica a partire da una nuova TAC, apparecchi radiologici, risonanza e mammografi di ultima generazione, ha rimarcato Paes. Il decreto semplificazioni lo consente, Conte coinvolge il presidente Solinas e nomini un commissario straordinario per la realizzazione della quattro corsie Sassari-Alguero. L'ex sindaco Marco Tedde interviene ancora una volta sull'iter procedurale delle importanti arterie aviaria. Dopo aver proposto l'interpretazione autentica del PPR che è stata accolta in norma regionale oggi chiede l'applicazione del decreto semplificazioni del 16 luglio che all'articolo 9 prevede che il presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto adottato previa intesa con il presidente della regione interessata possa nominare un commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello regionale o locale. Sembra una norma scritta per la Sassari-Alguero, commenta l'esponente di Forza Italia, anche perché per l'esecuzione degli interventi e per la loro accelerazione. I commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze. Secondo Tedde un'applicazione tempestiva rigorosa nella norma consentirebbe di recuperare almeno in parte i decenni perduti. Sono sempre più convinto che sia necessario che in questi giorni i parlamentari del Movimento 5 Stelle e del PD facciano pressing sul governo per arrivare all'obiettivo che si spera venga colto nel giro di pochi giorni. La provincia di Sassari per troppo tempo trascurata merita attenzioni tempestive. Chiude Tedde. La rete metropolitana investe sulla promozione del territorio, sulla destagionalizzazione e sul sostegno al nostro aeroporto. Ieri nella Hall del Riviera del Corallo i sindaci degli otto comuni della rete hanno inaugurato il piano di promozione, accoglienza turistica e itinerari del territorio previsti grazie all'investimento di 3 milioni di euro programmato con risorse regionali e attivato concretamente con l'accordo sottoscritto il 20 novembre scorso dalla rete metropolitana del Nord Sardegna con la Sogeal. Presenti gli otto sindaci della rete con il direttore generale di Sogeal Alberto Perini sono stati illustrati i risultati del lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla realizzazione all'interno dell'aerostazione di maxi schermi, poster, pannelli informatici dei contenuti più suggestivi dei territori trasmessi sul maxi lead wall di oltre 60 metri lineari nella main hall dello scalo. La rete vuole contribuire alla ripartenza, detto Nanni Campus, sindaco di Sassari e presidente dell'Unione degli otto comuni e con l'iniziativa avviata che era una durata di tre anni vengono messe in campo tutte le peculiarità dei territori per promuoverle con una visione unitaria. Nuova immagine, nuovo sito istituzionale, nuovi canali social, così la rete metropolitana cambia passo e si attiva per il territorio grazie ad un nuovo impulso che ha portato l'ente a dotarsi di una struttura operativa ed efficiente. La promozione del territorio avviene sotto il logo della rete metropolitana del nord Sardegna che distingue e caratterizza il progetto comunicativo che sarà implementato poi nel corso dei mesi con nuovi contenuti. Nell'aerostazione aree arrivi e partenze i comuni del nord Sardegna si promuovono con grafiche coinvolgenti che richiamano l'attenzione dei passeggeri sulle bellezze dei territori con risalto delle peculiarità architettoniche, ambientali, storiche e identitarie. Le immagini e percorsi dei territori del nord dove potranno poi essere scaricati via internet e accompagnare i turisti durante tutta la vacanza e anche oltre fornendo indicazioni e mantenendo sempre vivo ed attrattivo il collegamento con la Sardegna. Ed ora sentiamo le parole del sindaco Mario Conoci proprio ieri in aerostazione. Sizziamo oggi con la promozione del territorio un'azione importante della rete metropolitana, con gli altri otto sindaci abbiamo inaugurato la promozione del territorio e uniamo un'azione di promozione a un'azione di sostegno al nostro aeroporto. Naturalmente il nostro aeroporto è uno strumento fondamentale per la ripresa del territorio e altrettanto però abbiamo reso e iniziamo a rendere visibile un'azione concreta della rete metropolitana che per troppo tempo era rimasta un oggetto misterioso. In questi mesi abbiamo lavorato per dargli una struttura operativa e i risultati stanno iniziando a essere visibili a tutti. Questa è la prima delle operazioni che stiamo facendo con la rete metropolitana, con gli altri sindaci in collaborazione con il nostro aeroporto e io penso che sia un segnale importante per la ripresa del territorio, per dare un segnale anche di fiducia ai nostri operatori economici, ai nostri concittadini che in particolare sul nostro aeroporto, sulla nostra struttura aeroportuale ripongono grande parte della fiducia per la nostra ripartenza. Ci fermiamo, ora c'è la pubblicità, tra poco. Ed eccoci ritornati in studio, dopo dieci anni torna il bagnino nelle spiagge libere, un risultato significativo perché assicura un servizio di sicurezza tanto ai cittadini quanto ai turisti. Lo sottolinea in una nota Cristia Mulas, capogruppo di Fratelli d'Italia e presidente della Quinta Commissione. Come città turistica, specialmente durante questa stagione post-covid, ogni euro investito sui servizi e sulle infrastrutture utili al turista rappresenta un investimento sull'economia cittadina. Da questo punto di vista è giusto che faccia la propria parte anche il settore pubblico e che non lasci solo quello privato. Il risultato, sottolinea Mulas, è stato raggiunto grazie ad un lavoro corale che ha trovato il giusto sostegno del rappresentante di Fratelli d'Italia nella giunta regionale, l'assessore per la difesa dell'ambiente Gianni Lampis e del suo capogabinetto. Emanuele Beccu, lo stanziamento del contributo di 22 mila euro destinato al nostro comune è stato l'esito di un lavoro di squadra che ha come protagonista la politica che pensa ai cittadini e all'economia della città, ha chiuso l'esponente di Fratelli d'Italia. Parliamo ora di teatro, conferenza stampa questa mattina. La fondazione Alghero con il sindaco Conoci, il presidente della stessa fondazione Andrea De Logu, l'assessore alla cultura e turismo Marco Di Gangi, nonché appunto del CEDAC, che hanno annunciato la ripartenza della stagione di prosa interrotta in primavera a causa della pandemia. Sette titoli che faranno dello spazio esterno del Qualte un teatro all'aperto per eventi che promettono serate da non perdere. È stata Valeria Ciabattoni del CEDAC a parlarci del programma. Valeria Ciabattoni, CEDAC, ci ritroviamo dopo questa emergenza sanitaria Covid che ha bloccato tutto, compresi gli spettacoli teatrali. Il CEDAC però c'è, riprende la stagione di prosa ad Alghero? Sì, riprende la stagione ad Alghero. È un impegno che a nostro avviso doveva essere risolto perché è stata un'emergenza che ha toccato tutti e chiaramente i teatri sono stati molto colpiti, come sappiamo. Appena si sono, come dire, riprese un po' le fila e il Ministero ci ha dato delle indicazioni più precise, abbiamo reinventato la ripresa di tutta l'attività sospesa in primavera. Per cui dalla prossima settimana riprendiamo, siamo riusciti a mantenere tutto il pacchetto programmato tra marzo e aprile. Abbiamo giusto, come dire, fatto un piccolo cambio perché lo spettacolo di Le Allegri e Comari di Windsor non era adatto all'allestimento all'aperto perché questo è il principio per la ripresa teatrale, utilizzare lo spazio dell'ocualté. L'abbiamo sostituito con una grande signora, non prettamente teatrale, però Paola Maugeri che è conosciuta, diciamo, che si è messa a raccontare la sua storia e che è anche un po' la storia della tv musicale. E in più inseriamo anche un'ulteriore proposta, quindi sono sette titoli. I nostri abbonati sono stati naturalmente già avvisati, che saranno accolti con tutto il rispetto delle norme sanitarie, bisogna dirlo perché questo è importante, e niente, speriamo che anche tutti gli altri algheresi e turisti possano arrivare perché è una cosa importante riprendere l'attività culturale anche in uno spazio come ad Alghero. Dal teatro alla musica proseguono al Qualtè anche gli appuntamenti della terza edizione di Jazz Alghe, organizzata dall'associazione culturale Bayou Club Events con la direzione artistica di Paolo Fresu. Questo sabato 25 luglio sarà il trio del contrabassista Salvatore Maltana con Marcello Peghina alla chitarra e l'armonicista Max DeAloe a salire sul palco per il loro concerto. È stato proprio Salvatore Maltana a parlare nei nostri microfoni. Dopo domani il concerto di Salvatore Maltana nell'ambito della terza edizione di Jazz Alghe Al Qualtè con il trio presenti il tuo nuovo disco. Sì, il 25 punto di luglio farò la presentazione del mio disco My Folks con Max DeAloe all'armonica e Marcello Peghina alla chitarra. Un disco che ho scritto e registrato l'anno scorso ma che sta venendo la luce ora per tutti i problemi legati anche al Covid e tutte le cose che sono successe in questo periodo. Sono contento perché in realtà presentare questo disco qua ad Alghero è un po' una piccola soddisfazione perché all'interno di questo disco trovo che ci siano tante cose che parlano di Alghero, comprese quelle della mia famiglia. Artista sì, ma anche coordinatore artistico di questo Jazz Alghe 2020. Le persone possono venire a vedere tutti gli otto spettacoli previsti, gli otto concerti previsti anche acquistando un pacchetto. Sì, infatti vorrei ricordarvi che per vedere i concerti esiste un pacchetto di 70 euro per vedere tutti i concerti o i biglietti singoli che sono dai 25 ai 10 ai 15 per concerto. Montagne e foreste della Sardegna e questo è il titolo del volume fotografico dell'affermato fotografo naturalista sardo Domenico Ruiu che verrà presentato questa sera a Casa gioiosa, sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Dopo i saluti del Presidente del Parco, Raimondo Tillocca e di Luigi Marras del gruppo Sardegna Ambiente, promotore dell'iniziativa, alle 19.30 interverranno Emanuele Farris, docente dell'Università di Sassari e Mariano Mariani, direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell'area marina protetta con le loro relazioni. A coordinare la serata il professor Antonio Farris, già ordinario dell'Università di Sassari e già Presidente del Parco di Porto Conte. Per poter partecipare occorre prenotarsi al numero 331 34 00 862, essendoci un numero limitato di posti e a seguito delle disposizioni in materia di distanziamento minimo legate ovviamente all'emergenza sanitaria. E sempre questa sera, ma alle 20 e 15, nella preziosa cornice del giardino del Museo del Corallo di Alghero, si svolgerà la presentazione del primo e secondo numero dei quaderni algheresi, sulla realizzazione del Catasto Terreni di Alghero nella prima metà del XIX secolo, in collaborazione con l'Università di Sassari e la Fondazione Alghero. Nei due quaderni viene presentato lo studio della professoressa Marina Secchi Nuvole, professore ordinario di Geografia di Generale e di Geografia e Letterature di Viaggio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari. All'interno vengono illustrati i tentativi di formare un Catasto Terreni iniziati al principio del XIX secolo fino alla stesura del processo verbale di delimitazione del territorio del 1846. Nella serata verrà presentato dall'editore il progetto appena varato dei quaderni algheresi. L'incontro sarà impreziosito dagli interventi musicali del pianista Valentino Cubeddu. Sempre a causa delle disposizioni Covid e ovviamente del numero limitato di posti a sedere. Non è consentita la presenza di ulteriori partecipanti e quindi è indispensabile registrarsi all'indirizzo www.edla.it o lasciare un messaggio al numero 079 0976 870. Ed è davvero tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie.